Molini, con Cristian 5, titolare della struttura, Villa Flavio Gioia, che è successo a Cristian con questi lavori? Eh niente, stanno da un po' di tempo, sempre fermi avanti al mio ingresso, non si sa bene cosa stanno facendo, ma pare che abbiano rotto anche un cavo telecom, così ho sentito, infatti tutta la zona è isolata, senza wireless, in più di sera chiudono e mi chiudono l'ingresso dell'hotel, con quelli che devono entrare per lavorare, uscire, senza avvisi, senza norme Cioè, l'hanno chiuso, l'hanno chiuso dentro l'albergo, insomma, se io volevo portare un mobile non sarei voluto entrare bene, e non si sa niente dal proposito